hi guys nuovo giorno qui in honduras al sim rumbo altra nottata di pioggia e la seconda fresco stamattina è più fresco e ancora tutto coperto però sono positivo che si aprirà e se dovesse andare avanti così la stagione delle piogge di giorno bello la notte piove va anche bene perché adesso passiamo in montagna ma quando si scende al mare rinfrescherebbe quindi sarebbe perfetto oggi come vi ho detto ieri faremo una chiacchierata insieme ad aleandro che ci spiegherà la vita dell'honduras come si vive in honduras i pro e i contro però prima di iniziare con lui sparatevi la sigla eccoci qua guys sin rumbo con un caffesito e una cioccolata calda sono qua con aleandro che aiuta raul questo bellissimo progetto ma come vi ho pronunciato ieri e all'inizio del video con lui voglio parlare di hondura se non del progetto che parleremo quella settimana prossima con raul per iniziare tutto bene tutto bene lui conosce qualche parola in italiano poi mi chiede ogni tanto puoi introdurre la tua persona che sei dove sei nato quando sei nato in generale ok ok bene grazie Fabrizio per la invitazione per la tutta la tua audienza mi nome è Alejandro come tu aveva già già abbiamo un paio di anni di lavorare a live di lavorare a live gerenciare qui in sin rumbo con Raul che pronto lo vanno a conoscere un emprendedor a parlare un pochetto del negocio poi che ti dico tengo actualmente 38 anni resido in la capital in la città di Tegucigalpa nativo di questa zona qui di Valle di Ángeles e orgoglioso di perteneciare anche a sin rumbo allora praticamente lui è nato qua alla capitale in questa zona della Valle di Ángeles ha 38 anni si chiama Alejandro come abbiamo detto all'inizio ed è due anni che collabora insieme a Raul al progetto Sì, corretto, así è bueno, è una parte gerenziale come te decía già tre anni di stare trabajando in questo progetto totalmente differente a lo convenzionale o a los trabajos normales en ciudad tuvimos l'opportunità di lavorare también días atrás contigo acerca della situazione di empleo e di altre situazioni che stanno occorriendo aquí in Honduras che a mia particolare opinione hai molta opportunità questo poi suele pasare si suele pasare si suele pasare, però non passa nada entonces, come te decía un total tema distinto nel lavoro che si vive qui in una montagna molto più tranquillo dove la calidad di vita anche in questo suele pasare suele pasare, voy a bajarle volumene a questo mi disculpa a tutti ok, quindi è una opportunità unica la che si vive acá perché aprendi a desarrollare molto la capacità di asombro la qualità di vita aumenta in si e ti dirai che la qualità di vita a pesar che le situazioni politiche o alcune situazioni non sono bene nel paese però il hondureno ha aprendito a saberle encontrar il lato bonito a le situazioni difficili che è quello che sta passando quindi ti potrei dire che è un onore iba a dire che è un onore sia un onore essere hondureno mi sento molto orgoglioso di mia patria verrà alla quale amo e ho potuto anche conoscere in molti departamentos alla gente in molti sentidos praticamente dopo averci detto che lui è nato e cresciuto in questa area da qualche anno che sta collaborando con Raul ha cambiato completamente la sua vita iniziando dal lavoro prima lui faceva una cosa completamente diversa e ha iniziato a aumentare la qualità della vita si gode di più il tempo libero disfrutta come dicono qua in Centro America il tempo la famiglia e l'Honduras molto orgoglioso di essere di questo paese di essere hondureno e ha girato ha viaggiato mi ha raccontato un po' ha viaggiato nel suo paese e ha incontrato della gente meravigliosa che l'ha fatto ricredere su quello che noi conosciamo su questo paese che dice ovviamente che politicamente è ancora un po' critico diciamo ancora un po' critico situazione difficile ecco sì non mi viene la parola è una situazione ancora un po' difficile politicamente parlando però la gente locale come noi invece ha un cuore grande così no? molto grande sì no grande grande sì la verità è che parlavamo di una situazione importante che è il tema della sicurezza a livello internazionale il proprio indoneo ha mal vendito su patria e sempre ha mencionato che Honduras è un paese peligroso io ti voglio dire che è una situazione difficile o un momento complicato può existire in qualche parte del mondo perché nadie sta exento in questo caso in Honduras io sì potrei dire che è un sicuro in molti in molti in molti in molti in molti dove la gente può andare tranquillo può andare tu telefono tu computatore tu equipo e non va a pasar absolutamente nada hay molto amarillismo in la prensa e di certa forma anche si è tergiversa a nivel internacional quando llegano a oltre di la gente dice no è molto peligroso che ha incidenza di violenza e tutto questo i i i la disgrazia di tanti e la ricchezza di altri ti gusta si buono buono praticamente vado a esplicare praticamente lui si è collegato subito a questa situazione particolare dicendo che il paese viene venduto male fuori dai confini venduto come un paese pericoloso ma lui dice che non è pericoloso ci sono tantissimi posti dove si può andare tranquilli col telefono in mano con la computadora con la macchina fotografica che niente va a succedere ovviamente come in tutte le parti del mondo compresa l'Italia da noi nelle grandi città può succedere qualche cosa di micro criminalità ma dice ovviamente che i giornali devono vendere devono vendere le notizie e le più appetibili sono le brutte notizie le cose brutte che accadono nel giornaliero infatti tutti i telegiornali anche in Italia nel 90% raccontano di brutte cose guerra pandemia tutte le cose che sappiamo e una piccola parte delle belle cose quindi sì è quello che necessitano vendere e questo fa contrapeso a quello che è la realtà di Honduras o sea totalmente realità vamos a vedere occidente oriente norte sur in qualche parte del paese vas a incontrare qualcosa che tenga a ver con riqueza naturale che è lo che Honduras ha montoni praticamente nei 4 punti cardinali nord sud est ovest in Honduras si può trovare qualcosa di bello da vedere a livello naturale come questa vista che noi abbiamo a Sino Rumbo exacto così è e puoi trovare molti facilità di transporte molti facilità in molte cose per poter fare come su esperienza e tutto dependerà se ha montagna playa o tutto che ha a ver con agua perché incluso in le parti del interior dove sta il lago di Ojo ha molte attività per poter fare quindi c'è molta diversità in la parte turistica è molto ricco su memoria è la gastronomia che è lo che ha parlato allora si dopo ho chivo perché qua non siamo d'accordo però dice praticamente che in Honduras ovviamente a livello turistico ci sono le montagne ci sono le spiagge ci sono i laghi all'interno fiumi cascate avete visto che io sono stato a quella sorgente naturale bellissima il paese offre tantissimo e per chi viaggia a zaino e spalla è collegato molto bene si riesce a spostarsi facilitamente facilitamente io ovviamente con la mia panda sono super avvantaggiato perché vado dove voglio adesso veniamo alla parte della cucina perché io ho detto che è uguale al salvador guatemala dopo il messico tutto uguale lui invece mi ha detto no guarda che è diverso andiamo andiamo qui e dalle in cosa è diversa la cucina hondurena totalmente 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 si vos provaste la pupusa en el salvador si ok no se si te contaron que hay un conflicto de origen di dónde proviene una volta iniziare la guerra tra i due paesi c'è chi dice che è salvadorena e che c'è chi è indorena però sicuramente è diversa perché quella salvadorena è un po' più spessa è un po' più pesante e ha meno sapore invece qua non magari per chi gli piace la cucina salutare perché è un po' pesante però è molto saporita è molto grassa talmente grassa e buona che alla fine ti lecchi le dita sì sì è delicioso così ha detto hablemos di algo che già provaste che è la baleada la baleada è molto storica qui nel paese credo che tutto hondureno in qualche parte del mondo sempre la va a raccomandare la baleada è il piatto típico uno del piatto il desayuno o cena la colazione o la cena praticamente è una tortilla grande che viene piegata in metà con dentro fagioli uova e altre cose o lo che querano metere sì quello che si vuole metere ese seria uno e già vamos occidente che c'è 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 carne sopa è molto diversa lo che si posso dire è molto sabrosa e è molto variata la maggior parte dei extranjeri che vengono al paese è di su gusto è di su gusto è potrebbe essere un pochino complicato perché è un platino molto vasto e dependerà ovviamente le regioni traducendo in poche parole è molto saporita ma si può fare in tantissimi modi un po' come la nostra pasta la base è sempre la stessa la pasta però i condimenti sono infiniti il quale è uguale e quindi ognuno si può ritagliare la sua preferita e è ugual in la parte di le di la la gastronomica si si vai incontrare le le deliciosa, molto tipica anche qui. Il Salvatore si sta collegando, dopo il cibo dice che sono anche delle bevande tipiche, tipo? Ok, tipo. Per esempio, una che io se che provaste in mexico, che è l'horchata. L'horchata. L'horchata è anche qui e ha un altro sapore molto diverso. E noi andiamo più a, basicamente, il morro, perché il Salvatore è anche un'horchata di manì, che il sapore è un po' diverso. Perché l'horchata, che non è l'horchata, in mexico viene dal maiz. Qua invece viene dal morro. Dal morro. Che è il morro? È un'altra specie di semilla. È una semilla che si muove. Si muove, si muove e fa come un processo. Al fine si serve fria, perché è una vita fria. Ok, viene dal morro, che è un altro sapore, però sinceramente non so che cosa sia. Dopo io vado a guardarlo, anche voi google il morro e capire. Magari c'è anche in Italia, però non so. Te voy a traer, quindi. Magari te voy a traer. Ok. Me voy a compromettare come vuoi fare. Ok. E allora, poi, tra jugos naturali e altri tipi di cose che possono fare, come l'atolchuco, per esempio. Que ese si proviene del maiz. E' una bebida caliente. Il saborcito a veces sono fuerti, perché si se maneja un sabor molto forte, potrebbe essere di tuo gusto o non potrebbe essere. Però si è una bebida molto tipica. Questo si chiama? Ese si chiama l'atolchuco. 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 L'atolchuco, un'altra bevanda che deriva dal maiz, però è molto forte e calda. Lleva frijoles, solo per che hai una idea. Anche con i fagioli? L'atolchuco. Ah, ok. Anche con i fagioli. E' un sapore molto forte che o piace o non piace, non c'è una via di mezzo. Ok, davanti. E' un sapore no, però è l'atolchi. Voi ci sono stati a l'atolchu. Otra delle questioni che mi hanno preguntato era il tema del lavoro o studio, potremmo parlare di un solo o no? Claro, claro. Lista. Con il tema del trabajo, in Honduras... Lavoro, studio, in Honduras. Lavoro, studio, in Honduras, correcto. Il tema del trabajo è molto diverso. a pesar di che ha opportunità di lavoro la situazione salariala non è non è in buona posizione le situazioni politiche che ha avuto il paese hanno fatto che a pesar di che le persone hanno una buona quantità di ingresos la canasta è un pochino più alta e ci fa che la plata di ripeto il salario minimo andate come in 10.000 lempiras 400 dolari sì, più o meno 430 dolari allora, iniziamo dal salario minimo che è 430 dollari il mondo del lavoro si sta iniziando a muovere ma che comunque arriva da una politica un po' critica e confusa diciamo che le cose stanno migliorando ma ancora, mi sembra di aver capito c'è tanto da lavorare per il mondo del lavoro ok, quindi hai questo, hai il tema del prezzo, equiparando con la canasta e se sarebbe il problema che la canasta la canasta la canasta la canasta la canasta è un pochino più cara che il ingreso che tiene la maggior parte dei soldi ora è una molto buona parte gente che guadagna anche più di 1000 dollari poi ovviamente si può dipende dal tenore di vita si può vivere meglio o peggio la domanda è questa quanti soldi servono per vivere bene in Honduras? ok, una persona sola credo che una persona sola una persona sola con un apartamento piccolo una casa piccola si, algo chiquito e tenendo lo basico potrebbe essere con unos con unos 400 con unos 430 dollari con un salario minimo vivere tranquillo tranquillo però potrebbe vivere potrebbe io ti pregunto vivere bene non sopravivere ok, va bene ok, credo che con 700 700 800 dollari 700 800 dollari una persona sola non è poco sì non è poco sì, no, io so che non è poco e potrebbe essere una famiglia dovrebbe essere dovuto e dipendendo quanta quantità di persone sia 3 a 4 perché si va va in aumento e lo vivere è algo costoso e l'alquiler dipenderà perché si si può incontrare lugares che siano comodos e tutto dipende di come quiera vivere e l'altra è l'estudio che l'estudio già è prima di entrare allo studio la famiglia ci vuole il doppio 1400 per una famiglia di 4 persone poi ovviamente dipende in che zona della città vivi o nel paese in che vivi e il tenor di vita che vuoi tenere e qui visto che eravamo allacciati alla famiglia studio studio ok quindi bambini si un niño por ejemplo promedio podría estar utilizando alrededor de la cuarta parte de tu ingreso normal de unos 600 dólares a unos 200 300 dólares porque si es costoso los pequeños siempre van a ser bien costosos en el tema educativo bambini y lo interesante de todo eso es que siempre te das cuenta de algo que la gente en los estratos más pobres tienen que tener muchos hijos eso es algo bien interesante o sea que está más ligado a una parte cultural y se vuelve más difícil para ellos pero un estudio más o menos podría andar entre no está gratis no hay hay dos puntos privado y público solo que la parte pública tiene mucha carencia hay mucho problema en el sector educativo entre maestros directivos y la parte del ministro que lidera toda la parte educativa entonces si hay mucha carencia la escuela pública no es que sea un gran que pero ha dicho que las familias pobres para poder mantenerse necesitan más hijos porque obviamente después van a trabajar van a trabajar en los campos y es un cano que se mueve la coda porque obviamente después más hijos más dinero que te sirven pero si eres pobres te sirven la fuerza de trabajo y entonces es un po un cano que se mueve la coda y regresando a la escuela hay también la escuela privada sí a pesar de que la educación sea gratuita todo dependerá del esfuerzo que ponga cada quien y hemos tenido muchas personas que han llegado alto por puro sacrificio estudiando en todo el nivel educativo público con la parte privada todo dependerá de lo que andas buscando y en la parte privada hay dos sectores está el normal y el otro sería el bilingüe entonces tienen esa posibilidad el normal varía puede andar entre más o menos que 200 a 300 dólares en colegiatura mensual solo el pago de estudio y luego el resto todo lo que necesita para su educación y la parte educativa del lingüe que se dispara se va más arriba eso sí está bien caro podría andar incluso hasta en los 400 500 a 600 prácticamente la scuola pública comunque se uno ci crede ed è bravo e studia comunque c'è gente che è riuscita ad arrivare in alto anche percorrendo gli studi diciamo in tutta la struttura pubblica invece con la privata è divisa in due c'è la privata in spagnolo e bilingüe in spagnolo costano le rette mensili dai 200 300 dollari invece bilingüe 400 500 anche 600 solo la retta della scuola poi ci sono i libri i vestiti le attività dopo scuola tutto questo quindi comunque non è un paese economico Honduras non sta barato non sta barato in esa parte in la parte educativa perché incluso podría avere lugares che tienen más prestigio e también il suo precio si va elevar o sea mucho muchísimo más las cosas están cambiando los tiempos están cambiando ha sido testigo che las reformas para muchos migranti stanno cambiando se stanno volviendo más severas un porcentaje molto grande della entrada al paese in divisas proviene de nostri catrachos che residen fuori de Honduras e che justamente sono negli USA una muy buena quantità di soldi arriva ancora negli emigrati che sono trasferiti per lavorare però ovviamente i tempi stanno cambiando e le regole anche per la migrazione stanno cambiando lo che si sta cambiando è il tema politico sta facendo che le persone puedan abri se empiecen a tener un criterio proprio e che empiecen a cuestionare le cose che se stanno facendo non era come antes che te ponían todo in mano e solo recibías ahora se cuestiona e eso è molto importante cosa dicendo che è molto importante che i tempi cambiano e la gente può anche domandare può esprimere la propria idea cosa che prima non era non era possibile ti davano in mano un pacchetto e quello era non è che potevi confrontarti lamentarti o fare qualcosa quello era appunto invece adesso la gente è più libera di pensare e parlare per chiudere ha detto che ovviamente gli hondureni hanno oltre il cuore grande hanno anche una grande forza interiore e sono versatili per cercare sempre di cambiare e migliorarsi sono sempre disponibili con la gente sia locale ma anche gli stranieri infatti sono tanti stranieri che vengono qua in Honduras e poi si fermano come estrajero creo che è una buona opzione la plata in conversione la moneda può essere molto più rentabile per che una persona le possibilità di un estrajero per poter invertire in realtà non sono alti sono alcanzabili e la calidad di vita può migliorare perché la plata rende più il dólar rende più praticamente dice che se si vuole investire in Honduras è sicuro e il dólar o nostro caso l'euro qua può valere molto di più e può rendere molto di più quindi venite tutti in Honduras perfetto Alejandro muchas grazie di questa chiacchierata tutto bene tutto bene vediamo domani è vero tutto un caffetito sì io ho finito ah già sì allora va a fermo chocolate ancora un po sì caffecito ora sta fria però sì sta caliente grazie